Più sicurezza sul lavoro e meno incidenti nei cantieri, un'equazione agevolata dalle nuove tecnologie. Alla Camera di Commercio è stato presentato il progetto SISCA, sistema di sicurezza cantieri edili, realizzato al Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Napoli e finanziato dalla direzione regionale INAIL della Campania. Attraverso l'applicazione di una complessa architettura tecnologica costituita da varchi elettronici, sensori e centraline riceventi, sarà possibile introdurre nei cantieri edili un sistema di monitoraggio sui dispositivi di protezione individuale del personale. SISCA è acronimo di Sistema di Sicurezza Cantieri edili ed è un progetto interamente finanziato dalla direzione regionale INAIL e realizzato dal CPT con il contributo dell'Enginfo Consulting per la parte tecnologica, col quale noi vogliamo praticamente avere una sicurezza attiva nei cantieri. Consiste nella realizzazione di barchi di passaggio, sensori e centraline che riescono a controllare in tempo reale il passaggio dei dipendenti e quindi dei lavoratori in determinate zone, il corretto utilizzo dei DP ed inoltre c'è anche un sottosistema per la verifica dei parametri ambientali. Questo serve anche a migliorare la qualità della vita all'interno dei luoghi di lavoro e all'interno dei cantieri perché il settore delle edilizie è ancora un settore dove si muore. In questo modo si combatte anche la camorra, si combatte il lavoro illegale, si combatte la malavita organizzata perché ripeto questo è un sistema innovativo dove comunque le imprese vere, le imprese serie che comunque applicano questo tipo di sistema hanno anche un vantaggio. Stiamo lavorando in maniera a mio avviso incisiva e il progetto che stiamo oggi illustrando è una dimostrazione perché abbiamo voluto mettere a disposizione tutta la tecnologia che attualmente ci consente di poter mettere in sicurezza le persone che lavorano e quindi di mettere in sicurezza i lavoratori nei luoghi di lavoro. La stiamo cercando di mettere in campo con la massima possibilità di intervento diretto da parte, da una parte dei datori di lavoro e da parte dei lavoratori.